Mister, sul 2-0 avete subito quel gol e poi la squadra ha la vinta di carattere, possiamo dire. Sì, oggi è stata una partita difficile, ma io lo sapevo, quindi lo sapevo che oggi col Capistrano è una partita difficile perché li conosco. Oggi abbiamo vinto una partita importante contro una squadra tosta, però la squadra oggi veramente ha mostrato il carattere. Siamo contenti per la partita vinta, ma dobbiamo già pensare alla prossima perché comunque purtroppo il percorso nostro è questo. Dobbiamo pensare a partita per partita e oggi ci votiamo alla partita di oggi, però già da domani testa a Montesilvano. Sono partiti, sì, effettivamente hanno avuto subito pronti via quell'occasione con guerra, però poi dopo abbiamo subito risposto anche noi perché abbiamo avuto anche noi due occasioni importanti e non sfruttate. A me la squadra è piaciuta, ma tutte e due le squadre mi sono piaciute, perché a livello di ritmo, di intensità è stata una bella partita giocata da entrambi le squadre. Ci sono state poche occasioni perché è stata molto combattuta a centro campo. Però penso che alla fine se andiamo ad analizzare, la palla abbiamo tenuta quasi sempre noi, io penso, presumo, il mio pensiero è che alla fine il risultato del pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Però onore sempre ai vincitori.